Marco Marsilio guadagna popolarità e quanto emerge dall'indagine nazionale Governance Poll 2020, commissionata dal Sole 24 ore. Il presidente della regione Abruzzo sarebbe al sesto posto per consensi nella classifica dei governatori. In vetta alla lista quello del Veneto, Luca Zaia, Fanalino di Coda, Nicola Zingaretti, governatore del Lazio. Rispetto al 10 febbraio 2019, giorno in cui Marsilio fu eletto presidente della giunta regionale, il governatore abruzzese ha guadagnato l'1,4% di consensi, passando, secondo il sondaggio, dal 48 al 49,4%. L'indagine pubblicata sul Sole 24 ore non riguarda solo i governatori, ma classifica anche i sindaci dei capoluoghi di provincia. In tutto ne sono 106. In Abruzzo il più popolare sarebbe Pierluigi Biondi, sindaco dell'Aquila, che si piazza al 19esimo posto della classifica generale con il 58,7% dei consensi, un incremento del 5,2% rispetto a quando è stato eletto. A seguire Umberto Di Primio, sindaco uscente di Chieti, al trentesimo posto con il 56,7% di gradimento, più 1,7 rispetto a cinque anni fa. E poi Carlo Masci, primo cittadino di Pescara. Masci è 44 in classifica con il 54,7% di consensi. Anche lui ha guadagnato punti, più 3,4 rispetto al giorno dell'elezione. Il sindaco meno apprezzato, tra quello dei capoluoghi abruzzesi, è Gian Guido Dalberto, primo cittadino di Teramo, al 58esimo posto della classifica generale con il 53%. Poca o nessuna differenza rispetto a quando gli elettori lo nominarono amministratore. Dalberto ha perso lo 0,3% dei consensi. Il sindaco di capoluogo più popolare d'Italia sarebbe Antonio De Caro, sindaco di Bari. Il meno gradito invece è Leo Luca Orlando, primo cittadino di Palermo.